Ciao ragazzi, mi avete chiesto in tantissimi di parlare di questa prima puntata di Tokyo Revengers, uno degli anime più attesi di questa stagione primaverile, tant'è che mi pare che da poco ho iniziato anche il manga in Italia. Sinceramente io non volevo parlarne così presto, questo perché quando ho visto la prima puntata non sono riuscito poi così tanto a inquadrare bene questa serie e quindi avrei voluto aspettare un po' di più prima di discuterne qua su YouTube, ma mi state veramente tartassando di messaggi e quindi facciamo sto video, vi dico un po' il mio parere, un breve commento di questa prima puntata, ricordandovi però che io non ho mai letto il manga di Tokyo Revengers e che quindi non so nulla della storia. Ho sentito discutere tanto del manga ultimamente, ha vinto anche dei premi molto importanti e di conseguenza avevo alte aspettative. Ora la questione qual è? Tokyo Revengers è un anime che ha un inizio molto simile a quello di Erased, non so se conoscete l'opera, è molto famosa in realtà, e diciamo che abbiamo questo incipit nel quale il protagonista muore all'inizio dell'opera e ritorna indietro nel tempo di una decina d'anni per salvare una ragazza, in particolare qui la sua fidanzata di quel periodo, alla quale era molto legato. Questa diciamo che è la somiglianza principale che abbiamo fra Erased e Tokyo Revengers, qualcosa di breve, conciso, diretto, ma piuttosto importante. Vorrei però evidenziare il fatto che si tratti solamente di un incipit, di un inizio della storia, poi magari potrebbe diventare completamente diversa, svilupparsi in un modo completamente diverso da Erased. In realtà ci sono delle somiglianze anche con Re Zero, con Steins Gate, ma qui potremmo semplicemente dire che proprio il tema principale è quello dei viaggi nel tempo ad essere una costante fra tutte queste serie. Anche è vero che il fatto che il protagonista possa ogni tanto tornare nel presente e poi riandare nel passato, magari a caso, è un'altra roba che assomiglia tantissimo a quella di Erased. Però al di là di tutto questo, ripeto che secondo me è solamente un incipit. Tanti anime, tanti battle shonen hanno degli incipit molto simili, però tutto sta nel modo in cui poi verrà raccontata la storia. E se il manga è così apprezzato e conosciuto, un motivo ci sarà sicuramente. Poi comunque vi ricordo che una serie non deve per forza essere originale per essere bella, anzi. La puntata è una semplice introduzione alla storia, conosciamo un po' i personaggi principali, capiamo un po' le dinamiche di questo mondo e ci lascia con un bel colpo di scena finale. Anche le tematiche introdotte nell'opera sono interessanti, però bisogna vedere il modo in cui verranno sviluppate e affrontate nel corso degli episodi. Anche perché credo che dopo questa prima puntata l'apparenza possa un po' ingannarci. Perché magari questa serie vuole affrontare il tema del viaggio nel tempo in una maniera diversa dal solito. Penso al fatto che gran parte delle opere incentrate sui viaggi nel tempo di solito hanno come messaggio principale quella di non cambiare il passato. Che in fin dei conti cambiare il passato può portare e spesso porta a risultati peggiori. E che l'importante appunto è cercare di migliorare nel presente. Però secondo me quest'anime vuole puntare a qualcosa di diverso. E mi sembra che diciamo che il tutto sia più incentrato sulla possibilità di maturare, di riavere una nuova vita da parte del protagonista. Secondo me quest'anime potrebbe riuscire ad affrontare aspetti molto più maturi e profondi di quello che sembra a primo impatto. Però sto parlando un po' così a sensazione, purtroppo non so veramente nulla della serie. Sinceramente io questa prima puntata l'ho trovata carina, ma non mi ha lasciato nulla di particolare. E non è un problema, perché ripeto, secondo me è una serie che deve avere un po' più di tempo per farci capire bene quello che vuole raccontarci. Delle cose interessanti già ci sono, le hanno introdotte, ma bisogna aspettare. Sarà anche il fatto che purtroppo dal punto di vista tecnico mi ha un po' deluso. Infatti quelle poche mazzate che abbiamo visto sono molto normali. Tutte le scene quotidiane sono animate decentemente, ma nulla di più. Inoltre il character design lo trovo molto semplice, e per carità ci sta, ma nulla che mi resti impresso per ora. Spero che vedremo qualcosa di migliore da questo punto di vista. Le musiche invece, per ora, quelle che abbiamo ascoltato, mi sono piaciute. Anche l'ending è molto molto bella. Per chi non ha ancora visto la prima puntata, vi consiglio di chiudere il video adesso, perché vorrei fare un piccolissimo spoiler che potrebbe appunto infastidirvi sul finale della prima puntata. Visto che sinceramente mi ha lasciato un po' interdetto. Nel finale infatti il protagonista dice al fratellino della sua fidanzata, che appena ha incontrato e conosciuto, che lui viaggia nel tempo, e che appunto fra circa 12 anni, mi pare, loro moriranno sia lui che la fidanzata. Ed ecco che qui ho già cominciato a pensare a qualcosa di diverso rispetto ad altri anime, come ReZero e Raid, in cui di solito il protagonista non poteva dire di essere andato nel passato, comunque non aveva senso farlo. E invece qui questa cosa sarà fondamentale perché poi, 12 anni dopo, il fratellino non sarà più morto, la sorella comunque non è riuscita a salvarla, però appunto cambia un po' tutto quanto. Ora, se questa cosa mi è piaciuta da un lato, perché rende la serie un po' diversa dalle solite, dall'altro mi è sembrato quasi una forzatura. Cioè, almeno io, se fossi stato quel bambino, a parte che non mi sarei mai ricordato di una cosa del genere dopo 12 anni, ma poi, cioè, dovrei davvero credere a un teppistello, a un ragazzino che arriva qui, mi salva, ok, ma non l'ho mai visto prima, che mi dice che viaggia nel tempo e che morirò fra 12 anni? Mh, sinceramente mi è sembrato un po' una forzatura, però magari per voi non lo è, o comunque verrà spiegato meglio in futuro. Detto questo, ragazzi, per me Tokyo Revengers è una serie che ha bisogno di tempo, non possiamo ancora dire nulla di particolare. La prima puntata non è niente di che dal mio punto di vista, però presenta degli spunti parecchio interessanti, e spero che in futuro possa migliorare, anzi, sono piuttosto sicuro che succederà. Farmi sapere la vostra opinione al riguardo, lasciate un mi piace, se mi sto cercando di qua sotto, e ci vediamo al prossimo video. Musica